E' Vibo Valencia, in Calabria, la provincia con più reati commessi e denunciati nel 2017. Si pone al 51esimo posto nazionale con 3.276,79 reati ogni 100.000 abitanti in calo del 3% rispetto al 2016. E' quanto emerge dall'indice della criminalità elaborato dal Sole 24 ore su dati forniti dal Ministero dell'Interno relativi al 2017. A seguire si trova Catanzaro, 55esima con 3.217,09 in deciso calo, meno 11% in 69esima posizione. C'è Reggio Calabria, 3.021,89 reati, meno 1%. Al 79esimo crotone con 2.885,28 più 6% e 82esima cosenza 2.832,36 meno 4%. Vibo è anche maglia nera a livello nazionale per omicidi, 15,5 ogni 100.000 abitanti con un incremento del 127%. Al quarto posto crotone con 6,3 delitti, gli stessi del 2016. Crotone è anche terza a livello nazionale per reati di riciclaggio e impiego di denaro con 12,6 ed un incremento sul 2016 del 214%. Sul fronte incendi sono tre le province calabresi nei primi cinque posti nazionali. Cosenza prima con 111,9 più 26%, Catanzaro seconda 105,9 più 94% e Crotone quinta 95,4 più 8%. Ancora forti i temporali al sud ed allerta rossa per rischio idrogeologico sulla Calabria ionica. Un livello più basso arancione su alcuni settori di Abruzzo, Basilicata, Sicilia e sui restanti settori della Calabria. Lo indica un nuovo avviso meteo della protezione civile. Dal pomeriggio di lunedì infatti venti forti o di burrasca sulla Campania, persisteranno inoltre venti di burrasca su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Mareggiate lungo le coste esposte, temporali nella nostra regione, specie sui settori ionici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequenti attività elettriche e forti raffiche di vento. Il sindaco di Catanzaro, Abramo, ha disposto alla chiusura delle scuole di ogni ordine grado per la giornata di martedì 23 ottobre. La decisione è stata presa a seguito dell'allerta meteo di livello arancione diramata dalla protezione civile dalla mezzanotte di martedì per le successive 24 ore. Si è tenuto conto, è detto in una nota dell'ufficio stampa del comune di Catanzaro, dell'avviso di condizioni meteorologiche diffuso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile e inoltrato dalla Prefettura di Catanzaro nel pomeriggio con il richiamo alla massima attenzione da parte dei sindaci. Il sindaco Abramo ha anche attivato il centro operativo comunale per monitorare costantemente la situazione e attuare ogni misura occorrente per affrontare eventuali rischi e pericoli a tutela della pubblica incolumità. Si è tenuta nella sede della regione a Catanzaro una riunione con tutti i sindaci e gli amministratori della Metino per fare il punto sulle situazioni più emergenziali relativa ai fenomeni alluvionali che hanno interessato tutta la Calabria e in particolari comuni limitrofi alla mezzaterme circa due settimane fa. L'incontro è servito innanzitutto per offrire maggiori chiarimenti in merito alle spese che i comuni stanno affrontando in questa fase ancora molto delicata dove sono presenti forti criticità sui territori tra cui pericoli di frane e tratti con abitazioni isolate. Il responsabile della protezione civile Tansi ha illustrato dettagliatamente le procedure da redigere da parte dei comuni nei casi di somma urgenza o in quelle cosiddette urgenti sulle schede che verranno loro inviate ed ha informato sulla tempistica da osservare in questa prima fase legata al riconoscimento dello stato di emergenza e nel medio termine spiegando anche i criteri fondamentali di rendicontazione. Sono arrivati nel corso della notte i risultati definitivi delle elezioni amministrative nei comuni di Nicotera e Tropea i due centri in provincia di Vibo Valencia i cui organi elettivi erano stati sciolti per infiltrazioni mafiose. A Nicotera non si è raggiunto il quorum dei votanti, 50% più uno degli aventi diritto, per rendere valido il turno elettorale. A presentarsi alle elezioni una sola lista in in campo, quella guidata dal candidato a sindaco Pino Marasco. Il comune resta commissariato ma questa volta con un solo commissario prefettizio e non tre commissari in quanto il turno elettorale ha posto comunque fine allo scioglimento per infiltrazioni mafiose. A Tropea è stato invece eletto sindaco l'avvocato Giovanni Macri, coordinatore cittadino di Forza Italia. Con il 40% dei voti ha avuto la meglio su Giuseppe Romano, Nicola Cricelli e Massimo Landolina. I numeri testimoniano che Forza Italia è il punto di riferimento dei calabresi nonostante le sirene che ascoltiamo ogni giorno, per questo mi sembra che è la logica conclusione che il candidato presidente sia espresso da Forza Italia. Lo ha detto il portavoce dei gruppi parlamentari di Forza Italia, Giorgio Mulè, nel corso dell'inaugurazione della sede provinciale del partito a Catanzaro. Il candidato a proseguito Muleva ha scelto rispetto al migliore che c'è, come sempre fatto, sulla base dell'esperienza del programma del suo radicamento sul territorio. Ci sono, grazie a Dio, tali e tante personalità dentro Forza Italia, ma anche che bussano a Forza Italia. Ci sono 200 amministratori locali a noi adesso vicini. Abbiamo la sicurezza di avere personalità in grado di risollevare la Calabria e di far dimenticare questi anni di bui assoluto di una regione che non ha più voce in capitolo. Solo una guida salda della regione, ha concluso Mulè, potrà riappropriarsi delle territorie nei termini di investimento e di sviluppo. Il candidato va scelto rispetto al migliore che c'è in circolazione. Il candidato si sceglie, come abbiamo sempre fatto, sulla base dell'esperienza, sulla base del programma, sulla base del suo radicamento nel territorio. Ci sono, grazie a Dio, tali e tante personalità che già sono all'interno di Forza Italia, che bussano alla porza di Forza Italia, che vogliono arrivare dentro Forza Italia. La Calabria ha espresso ultimamente 200 amministratori locali che si sono riavvicinati a questo movimento. Quindi non dico che abbiamo l'imbarazzo della scelta, ma non abbiamo una scelta imbarazzata. Altri hanno un candidato che sarà una scelta imbarazzata. Noi abbiamo l'imbarazzo della scelta che proviene dalla sicurezza di avere personalità in grado di risollevare, di prendere per mano la Calabria e far dimenticare questi anni di buio assoluto che la Calabria vive in una regione che è dimenticata, che non ha voce in capitolo nei tavoli che contano non solo in Italia ma all'estero, vive di una luce di fresa di cui non può vivere. La Calabria deve esprimere come regione un programma serio di investimenti, deve avere la forza di attrarre investimenti, non deve pietire nulla. Ci sono scene abbastanza ridicoli in Parlamento legate alla Calabria, a quello che la Calabria non ha da questo governo. Catanzaro sta alle radici di Forza Italia e lo è dal 1994. Catanzaro non è un territorio che Forza Italia deve conquistare. Forza Italia deve presidiare. Catanzaro lo deve presidiare con la forza non tanto delle idee, ma di quello che fa in termini di buona amministrazione a Catanzaro, nella provincia, nei comuni della Calabria che amministra, con un esempio civico in cui vale quello che si fa e non vale quello che si annuncia. Quella di Catanzaro è un presidio, un presidio civico, di civismo, in un momento in cui è necessario non parlare, ma bisogna fare, bisogna dire in maniera chiara che le politiche attuali del governo sono non penalizzanti ma umilianti per la Calabria. Ancora una volta l'Assemblea dei sindaci dell'AIC, autorità idrica calabrese tenutasi lo scorso 19 ottobre presso la cittadella regionale, non è riuscita ad approvare lo statuto per la mancanza del numero legale. Per il commissario dell'AIC, Domenico Pallaria, il problema perdurante sarebbe causato da una strumentalizzazione politica. Gli organi dell'AIC sono l'Assemblea, il direttore generale e il revisore dei conti. L'autorità idrica diventa pienamente operativa quando sono nel pieno delle funzioni questi tre organi. Se non si approva lo statuto, non si può fare il bando per il direttore generale, non si può fare il bando, la nazione di interesse per il revisore. Quindi si rimane nel limbo. Una volta costituito poi, se quindi è pienamente operativo con i suoi organi, l'autorità idrica calabrese, allora là poi i sindaci sono obbligati alle scelte sulla forma di gestione. Quali sono le forme di gestione per questa legge? O concessione a terzi, o pubblico privato o in house. Questo è l'euro. Allora io ho pregato di studiare il mio decreto, datato nel febbraio 2016, in cui ho fatto una panoramica delle criticità del sistema di internazionale, e quale può essere la soluzione. Intanto la prossima assemblea è in programma per il 6 novembre, ma per il sindaco di Catanzaro e presidente protempore dell'AIC Sergio Abramo, il vero problema è la solita discussione che si fa sulla mancata programmazione in Calabria. Saranno i sindaci a decidere sicuramente che tipo di gestione ci sarà, ma se sarà completamente data a un privato, occorre comunque una soluzione finanziaria, perché altrimenti non si sostiene il progetto. Se sarà data una società mista pubblico privato, sarà la stessa cosa. Se si darà a una società pubblica, quindi proprietà della regione Calabria, è la stessa identica cosa. Non tiene il piano industriale con solamente la tariffa. Quindi se la regione non dice chiaramente, al di là dell'approvazione dello statuto, che per quanto riguarda questo sistema dell'acqua in Calabria si possono mettere a disposizione dei fondi per portare avanti il progetto, io credo che non faremo assolutamente niente. Quindi la solita discussione che si fa sulla mancata programmazione in Calabria, che siano rifiuti, che siano acqua, che siano fondi europei, è sempre la stessa cosa. Sono stati 106 morti in incidenti sulla strada statale 106 Ionica nel periodo 2013-2017. E' quanto emerge dal rapporto stilato dall'Associazione Basta Vittime sulla strada statale 106, report presentato nella mattinata di lunedì a Catanzaro. Nei cinque anni considerati, si legge nelle report, abbiamo un andamento della mortalità incostante sulla strada statale 106. sono 21 le vittime nel 2013, 14 nel 2014, che è stato l'anno meno tragico, 22 nel 2015, 32 nel 2016, che è stato l'anno peggiore, e 17 nel 2017. In totale, seppure possa apparire incredibile la coincidenza, sono proprio 106 le vittime, 29 donne e 77 uomini. Di queste, 24 nella provincia di Catanzaro, 33 nella provincia di Cosenza, 20 nella provincia di Crotone e 29 nella provincia di Reggio Calabria. Nei cinque anni considerati, hanno spiegato Fabio Pugliese e Carla Tempestoso dell'Associazione, si sono registrate 22 vittime di media ogni anno e quasi due vittime al mese. Un bollettino di guerra è un dato che è destinato a peggiorare, se andiamo a vedere la statistica di questo 2018, quindi l'anno prossimo ne schiamo di venire qui e portare il secondo rapporto, che è addirittura peggiore del primo, e come se non bastasse poi abbiamo i costi sociali. I costi sociali, 160 milioni di euro circa, che lo Stato, che siamo noi, abbiamo speso in questi cinque anni, per via di queste persone che purtroppo hanno perso la vita, a fronte di neanche 50 milioni di euro investiti sulla 106. Tra l'altro interventi messi in sicurezza. C'è da ragionare se lo Stato spende di più per le vittime che non per mettere in sicurezza la gente, di evitare che questo fenomeno finisca. L'indiziato numero uno per definire le condizioni in cui versa la statale è l'indifferenza. L'indifferenza della politica, dei parlamentari, dei regionali, e consiglieri regionali, l'indifferenza dei sindaci, l'indifferenza dei cittadini, e a quest'ultimo rivolgo un appello, non è possibile, assolutamente possibile, pensare di dare un voto e delegare a qualcuno il compito di risolvere il problema. Il problema va risolto da noi, perché è nostro. Su questa criticità atavica, potremmo dire della Calabria, una strada degli anni 70-80, che chiaramente non riesce più a gestire i volumi di traffico attuali. Sì, atavico è l'aggettivo giusto, biblico forse, ormai è questo problema che ci affligge, perché quella che dovrebbe essere invece una strada che porta verso destinazioni in sicurezza, è soltanto una lunga trincea, è diventata ormai una lunga trincea, se pensiamo che ogni 3,1 chilometri c'è una vittima negli ultimi cinque anni. Forse l'asfalto reso viscido dalla pioggia che si è abbattuta nelle prime ore del giorno anche sulla città di Reggio Calabria. L'impatto è stato fatale per il conducente che si trovava alla guida di una vecchia Rover 416. Un bilancio drammatico per l'incidente che si è registrato lungo la corsia sud dell'accordo autostradale che collega la 2 alla statale Ionica 106. La berlina grigia, alla cui guida c'era un pensionato di 73 anni, aveva da poco superato la galleria Spirito Santo quando, per cause ancora in corso d'accertamento, è andata a sbattere contro il guardrail che fa da barriera divisoria l'altezza dell'uscita a Reggio Centro che mette sulle bretelle del calopinace. Una dinamica ancora a tutta da chiarire, ciò che appare certo agli uomini della polizia stradale della sezione di Reggio Calabria tempestivamente intervenuti sul posto supportati da personale ANAS è che si sia trattato di un incidente autonomo. Nessun altro mezzo sarebbe stato coinvolto nel sinistro. L'auto si sarebbe infatti piegata improvvisamente su se stessa finendo la sua corsa contro la barriera in metallo che l'ha trafitta distruggendola e non lasciando scampo al conducente morto a quanto pare sul colpo. I sanitari del 118 non hanno potuto far altro che costatarne il decesso. Non è la prima volta che l'altezza del punto in cui si è verificato l'incidente di questa mattina si registra un sinistro dall'esito mortale. Al di là di quelli che saranno gli ulteriori accertamenti sulla dinamica di quest'ultimo, non sfugge un particolare la mancata presenza all'altezza dello svincolo di un paracuspide, ossia un attenuatore d'urto, dispositivo normalmente installato in punti potenzialmente pericolosi per gli autoveicoli come appunto le uscite stradali e autostradali, pericoloso come lo è lo svincolo in uscita all'altezza del calopinace. Proseguono a ritmo serrato le indagini della Procura di Vibo Valencia e dei Carabinieri per far luce sull'omicidio di Massimo Ripepi, 42 anni, avvenuto domenica in via Regina Margherita, Piscopio, frazione di Vibo Valencia. La Procura ha ordinato l'esame autoptico integrato dagli esami balistici al fine di avere un quadro il più chiaro possibile sulla dinamica del fatto di sangue. L'omicidio resta di competenze della Procura Ordinaria, segno che non è maturato in un contesto mafioso ma in ambiti estranei alla criminalità organizzata. Gli inquirenti scavano nella vita privata della vittima dedita al gioco d'azzardo per arrivare a chiudere il cerchio. L'indagine parte da Salerno e doveva riguardare una rete di terroristi ma invece il Rossi dei Carabinieri ha scoperto un traffico di falsi matrimoni che venivano fittiziamente celebrati per garantire ad immigrati la permanenza in Italia. Due uomini sono finiti ai domiciliari nell'ambito dell'operazione denominata San Valentino mentre una donna ha l'obbligo della firma ma ci sono decine di indagati. L'attività di indagine che è stata condotta mirabilmente dalla forza di polizia, da Rossi in particolare ha consentito di verificare che in Cosenza c'è un'organizzazione che per un periodo temporale anche abbastanza ampio ha favorito l'immigrazione clandestina consentendo a immigrati presenti sul territorio legittimamente di ottenere il permesso di soggiorno attraverso i matrimoni fittizi. Alle donne costava di più trovare un marito. Il pagamento era di 7.000 euro circa per le donne e di 4.500, 5.000 per gli uomini. L'indagine parte nel 2016 ma subito capiamo di questa direzione verso la Calabria, quindi verso Cosenza e verso questa attività di matrimoni fittizi. È una storia anche di miseria visto le somme di denaro che sono in ballo questa organizzazione di cittadini cosentini alla fine lucrava 4, 5, 6.000 euro per matrimonio combinato da ripartire in più persone un qualcosa che afferisce sulla esigenza del cittadino straniero di trovare una collocazione legale quando non ne ha diritto. Abbiamo ricostruito 7 episodi e quella che noi riteniamo essere un'organizzazione dedita a questo tipo di reato è un reato grave comunque perché vale a creare perturbamento nell'opinione pubblica vale a creare problemi di vario tipo e di vario genere e probabilmente, ma di questo poi si vedrà nel corpo delle future indagini esistono altre strutture che praticano la stessa attività. È stata presentata a Catanzaro la terza ristampa del libro Lorsignori di ieri e di oggi scritto dall'ex ministro ed ex presidente della regione Agazio Loiero per i tipi di rubettino oltre all'autore all'incontro ospitato nella sede del Circolo di Catanzaro 1871 e moderato dal presidente dell'Ordine regionale dei giornalisti Giuseppe Soluri sono intervenuti la presidente dell'Eso d'Alizio Paola Gualtieri l'ex sindaco del capoluogo Marcello Furriolo e Maria Fonte Numerose le presenze abbiamo ristampato il libro ha detto Loiero perché è vero che molti dei personaggi di cui parla sembrano superati però può essere che qualcuno di questi possa ritornare in auge non lo sappiamo grande rispetto per quelli che hanno vinto ma chissà il libro parla di politici come Prodi Amato D'Alema di giornalisti come Scalfari o Travaglio no non sono passati anzi di qualcuno di loro ci sarebbe bisogno come del pane però il mondo cambia la politica la democrazia l'essenziale è tenersela alla democrazia perché io dalle cose che vedo che sento che avverto che leggo è un periodo in cui riesco a leggere moltissimo io ho paura che la democrazia tenga perché in molti paesi non è così quindi grazie a loro alla loro popolarità magari questo libro specie dalle nostre parti è stato molto venduto lei ha iniziato con il giornale di Calabria del tempo io scrivevo sull'unità ero spesso in prima pagina devo dire la verità Travaglio si è inventato un giornalismo di aggressione che va bene sempre schierato dalla parte delle procure questo un pochino va pure bene nel corpaccione del paese perché il paese è quello che ha che è con tanti problemi ma anche con un alto diciamo indice di di corruzione quindi lui poi è l'unico giornale che vende e che si mantiene da solo è ormai una consuetudine tutta cosentina quella di caratterizzare il mese di ottobre con la festa del cioccolato anche quest'anno da giovedì 25 a domenica 28 l'isola pedonale di Corso Mazzini ospiterà stand di artigiani e momenti di spettacolo Corso Mazzini è il cuore della città ma come è stato precisato viene scelto anche perché il suo grado di umidità è particolarmente utile alla lavorazione del cioccolato la manifestazione è promossa dalla CNA che si avvale della collaborazione della Publiepa il consenso ormai è nota per questo evento che è giunto alla sedicesima edizione la festa più dolce dell'anno la festa del cioccolato direi che ormai è una festa storicizzata che potrebbe addirittura essere segnata di colore rosso sul calendario il sindaco Mario Chiuto ci tiene in maniera particolare anche quest'anno ha dato la disponibilità di usare il corso principale il corso Mazzini il salotto buono della città per un evento veramente di una portata non solo provinciale ma anche regionale quest'anno abbiamo 50 espositori e 50 artigiani che lavorano nel cioccolato poi ci saranno altre tipologie di stand espositori e cioccolatieri che non vengono solamente non sono solamente dalla provincia di Cosenza ma sono anche di fuori regione e anche al di fuori dell'Italia la presenza di cioccolatieri francesi vista l'enorme affluenza dell'anno scorso l'amministrazione comunale ha predisposto anche una zona parcheggio per i pullman che arrivano da fuori città e i negozi naturalmente resteranno tutti aperti fino a tarda ora c'era il pubblico delle grandi occasioni al T-hotel di La Mezzia Terme alla sfilata celebrativa dei 30 anni di carriera della stilista Donatella Bertucci il salone che ospitava l'evento era gremito in ogni ordine di posti numerosi nel corso del defilé gli applausi spontanei e di consensi tributati soprattutto da parte dell'attento pubblico femminile l'evento è stato arricchito dalla presenza del ballerino Riccardo Zaccanelli e dell'attore Giulio Berruti strepitoso il finale della serata con le modelle che insieme a Berruti hanno festeggiati 30 anni di carriera della stilista e dopo insieme a tutto il pubblico hanno tagliato la torta augurale un fine settimana da ricordare per le squadre calabresi di calcio di serie B sia il Cosenza che il Crotone hanno fatto bottino pieno in casa nei rispettivi impegni i lupi hanno vissuto uno splendido sabato al San Vito Marulla trascinati a Gennaro Tutino hanno superato meritatamente il Foggia al 34esimo l'attaccante napoletano ribadisce in rete la respinta di Bizzarri sul rigore di Maniero di pregevole fattura il raddoppio ancora Tutino si supera nel secondo tempo minuto 74 scambia e senza pensarci inchioda Bizzarri con un esterno destro davvero magnifico tutto il San Vito Marulla in piedi per applaudirlo note serene anche all'uscita di Crotone dove gli squali di Stroppa superano l'ostico Padova di Mister Bisoli l'argentino dalla folta Chioma Claudio Spinelli al dodicesimo realizza il vantaggio pareggio di Federico Bonazzoli per i Veneti al minuto 64 ma la zampata di Marco Firenze in mischia al 76esimo regala la tecnico Stroppa finalmente una settimana di meritata tranquillità dopo tante polemiche domenica si cercherà la seconda vittoria consecutiva ancora all'uscita contro la Salernitana che ha battuto il Perugia in Serie C le Trapani si conferma in testa la squadra di Vincenzo Italiano si abbatte sull'Arieti sconfitto per 3-0 al provinciale doppietta di Corapi e rete di Aloy per i Granata marcia spedita anche la Juve Stabbia che segue a ruota infligge un 2-1 al Monopoli in rimonta in virtù delle reti di Trost e Carlini che replicano a Berardi il Catania trascinato dal duo Marotta Curiale passeggio a Pagani vittoria Etnea per 4-2 vicini alle grandi si stanziano il Rende la Vibonese quinta vittoria stagionale per gli uomini di Francesco Modesto a Valanga sul Bisceglie 3-0 firmato Laribi Aua e Vivacqua anche l'undici di Nevi Orlandi a gonfie vele quarta vittoria terza consecutiva e Bubas a decidere l'incontro con la Sicula Leonzio malissimo invece la regina la squadra Maranto di Roberto Cevoli che sembrava fuori dal tunnel ci ripiomba in maniera preoccupante nella gara disputata lunedì pomeriggio lo stadio Razza di Vibo Valencia la Virtus Francavilla del regino Zavettieri fa lo sgambetto ai calabresi decisivo lacuto di Foloruscio al cinquantesimo K.O. che allarma di nuovo l'ambiente Maranto in questo avvio di stagione davvero funesto rallenta la casertana raggiunta sul 2-2 a Matera non basta la doppietta di Castaldo ai falchetti campani infine Genchi regala tre punti al potenza sul campo delle Siracuse in caduta libera secondo successo per il neotecnico potentino Giuseppe Raffaele i Lucani salgono in zone della classifica senz'altro più prestigiose il grosso vaso terra l'uscita a a a a a a a a a Autore dei sorrisi